Oggi vi porto Godzilla Sto parlando seriamente Eccolo qua, sentite anche E' fantastico Ho preferito Godzilla a King Kong Che possiamo trovare sulla North Carolina Sono dei pacchetti che si possono acquistare Ok All'interno dell'armeria Fondamentalmente le navi sono una magi Per Godzilla e King Kong Per quanto riguarda la North Carolina E' un qualcosa di prettamente visivo D'accordo, le navi non subiscono nessun cambiamento E quindi questo è quanto E' una semplicissima mimetica Ci tengo a specificare che purtroppo Sia Godzilla che King Kong Spariranno durante la partita Quindi non avrete sta bestia sopra la nave Mentre state spazio No Avrete semplicemente la mimetica Blu e rossa per King Kong Con l'occasione colgo Nel mostrarvi la magi Corazzata di livello 8 Giapponese Che non gioco forse da 7 Non lo so da quanto Praticamente l'ho giocata una volta E poi la riprendo perché c'è questa cosa Che vi volevo mostrare Abbiamo una resistenza Di 66.300 punti Protezione siluro 50% E' fantastica questa cosa Artiglieria Poi vediamo dopo il capitano Artiglieria Cannoni da 410 Con una ricarica di 30 secondi Gittata 19.9 E armamento secondario Ben Numeroso Con pezzi da 127 Da 140 Proprio in casi estremi Di necessità Incursione aerea Per attaccare i sommergibili Fino a 10 km Difesa contraria Un valore di 230 1775 Nelle esplosioni E ancora Manovrabilità molto lenta La nave da girare Velocità massima Tutto sommato piacevole Mimetizzazione 15.1 Mettete tutto quello Che il gioco vi suggerisce E lui Il gioco dice Sistema di controllo danni Modificato 2 Perché la nave Le giapponesi Fondamentalmente Devono lavorare Sulla distanza E sparare col grosso calibro E la grande gittata D'accordo Quindi una nave Che sta così lontano Non ha bisogno Della propulsione Però io la metto Perché la nave In qualche modo La sposto Cioè non è neanche La tengo ferma lì Ok e sparo E basta No mi piace Muoverla Le bandierine Tutte quelle che vedete E il capitano speciale Se potete mettete Yamamoto Isoroku Per eventualmente Abilitare E attivare I suoi talenti Mettiamo quindi Menotenzione preventiva E qui come sempre Si aprono diverse Possibilità Di scelta Del capitano Considerate poi Che questo capitano Lo sta utilizzando Per un'altra corazzata Non lo sono ritrovato qua Un casino Come sempre Esperto in difesa Contrere Antisommergibili Per il meno 40% Andiamo a mettere Vigilanza Per il 7% In più Di protezione Si duro Arriviamo così Al 50% Sono 43% Rotazione Delle torrette Abbastanza obbligatoria Perché le torrette Sono lente Ma non troppo Scarica Di adrenalina Si utilizza Tutte le navi Poi Nozione di base Di sopravvivenza E ancora Esperto Delle ripresioni D'emergenza E in ultimo Esperto Di prevenzione In cene Mi sono mangiato Un po' di parole Perché devo andare Rapido Perché posso perdere 3 ore A parlare Della magica Con tutto il rispetto Del mondo E l'amore Che posso provare Per il Giappone Andiamo anche a dire Che la magica Ha diverse mimetiche Ci sarebbe anche L'Avenger Però sinceramente Questo è il video Di Godzilla E quindi vediamo La mimetica di Godzilla Mettiamo inoltre Le bandierine Jolly Rogers Che abbiamo guadagnato In passato Due ultime cose Mi raccomando ragazzi Se questi contenuti Sono di vostro interesse Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Un commento E un mi piace Aiuterebbero Il sottoscritto Insomma Nella scalata Ai 20.000 iscritti Se volete provare il gioco Completamente gratuito Trovate il link In descrizione Che vi darà alcuni vantaggi Per iniziare la vostra Avventura Su World of Warships Bella intro 10 e lode Andiamo a vedere Che abbiamo combinato Con sta nave Va Via Andiamo a giocare Una partita Con la nostra Corazzata A magi Siamo in una mappa Acqua settentrionale In modalità supremazia 5 corazzate 2 incrociatori 4 caccia torpedinieri E un sommergibile 4 caccia torpedinieri E un sommergibile Perché ovviamente Mettere 3 caccia torpedinieri Rispetto al numero Dei cap È troppo difficile 3 cap 3 caccia torpedinieri No così Andiamo a sbilanciare La situazione Vabbè Mi sono stancato Di dire le cose Da Sono ormai 8 anni Che dico sempre una cosa Le cose non cambiano Però Mi sembra doveroso Farle notare D'accordo Far notare La mia Il fatto che io Non sia d'accordo Ok Perfetto Allora Cerchiamo di dare supporto Al balao Meravigliau Con le nostre cariche Di profondità Che arrivano Fino a 10 Vediamo quello Che riusciamo a fare Abbiamo una Jumbert La Yugumo E poi tutti su Charlie Vamos Questi hanno fatto Hanno fatto il protone Per utilizzare le scifle Nel gearing Che dà il fumo Wow Cosa mai vista No dai Infatti il gearing Il gearing Non è che va Su bravo No Va su Charlie 3 dd Su Charlie 3 su Charlie Che è un capo Ragazzi Ma dove Ma Lasciamo stare Lasciamo stare Lasciamo stare Lasciamo stare Semplicemente Hai giocato male Perché Secondo me Non andare su Bravo Vuol dire che hai giocato male Non puoi buttarne 3 su Charlie Su Bravo È libero Cioè Si va a infilare Una shimakaze Loro Ci lancia Siluri Una dietro l'altra Che faccia Chi ci aiuta Poi Senza contare Che qua abbiamo Eh Buongiorno Yamato Yushi Sì Va bene Ok Certo Che qua stanno Le corazzate La rischio Un bel po' Se qua a destra Blind No Tutti qua stanno Ragazzi Tutti qua Secco a destra Subito Mi prendo tutte le legnate Possibili L'immaginabile L'hai chiamato pure A sparato Vero questi sono i colpi Ok Vabbè Se non vincono Di là Cioè No Io questa partita Ve la devo far vedere Questi siluri Chi sono Scusate Il Cossack Io non ho mai visto Una divisione Del genere Di navi E a dir poco Imbarazzante Quello che succede Faccio fatica A commentare Ma posso accassar là Ma chi dovrebbe sparare Scusatemi Cioè Io E la John Bart Due navi E una Yugumo Andiamo via Va Meno male che c'è l'isola Là Non riesco a capire neanche Dove è il sommergibile Loro Non so che è da queste parti Ma non lo vedo Sono ferma Spottato Non più Guarda Provo Perché Se no Rimango a 20.000 danni E non mi pare il caso Posso fare nulla Eh Ha dato potenza Posso fare niente Posso solo indietreggiare Ah Questo colpo potevo evitarlo Non l'avrei mai preso In tempo Vabbè Con le cariche Lo prendo Mi faccio anche male Due diretti Lo chiudo la Bart Quelle cannonate Potevo veramente evitarle Non c'è una miseria Mogador Eh ma è normale Che si infila qualcuno Poi a una certa Non lo vedo Non vedo neanche La chiazza Per Non lo so Boys Non so che dire Siamo una misera Nave di livello 8 Mogador è stato Anche lì Fatto fuori 100.000 danni Per me il sommergibile Sta esattamente In questa zona Però non ho la certezza matematica Lo Yugumo Se ne va addirittura Dietro Dietro La Bart Forse voleva intercettare Il Mogador Non avrebbe avuto mai Modo di intercettarlo Stiamo tankando Abbiamo Va bene Lascia stare tutto Va benissimo Va bene così Lascia stare Lascia stare Facciamo da soli Non lo so se sta là Non so se sta là Il sommergibile La verità E' la mia supposizione Perché avevo visto Delle cariche E no Fra Lo Yugumo Ci ha provato Ti do atto Che ci hai provato Ma non è cosa C'è Una divisione In mappa Che Non lo so Non lo so Veramente Proviamo un altro colpo Sulla Sulla Purfust Ma Forse mi converrebbe Mettere l'HEP In caso uscisse La Shimakaze Il nostro sommergibile Andato Ok Non lo so veramente Non lo so Non lo so Ma io qua Un recupero vita Me lo Me lo do Shimakaze è andata lì Sai che c'è possibile La forza di Andare leggermente In questa zona Devo capire Però il loro sommergibile Ancora Dove cavolo sta Vediamo se fa la virata No Non la fa Non ho nessun Riferimento Del sommergibile Tra l'altro C'è anche uno Yoshino E un Cossack In tutto questo Cioè Giusto per dire Non è finita qui La storia Allora Siamo messi bene A quarazzatura Siluro Però Se me ne dovessi Prendere più di uno Consecutivi Con il doppio ping Mi fa male Un po' aperto Va bene Via l'aereo Caso me lo spotto Ma non è che Ce l'ho proprio Sotto di me Il sommergibile Mi hanno tankato Due milioni Nel frattempo Navi nemiche Ok Sono costretto A fare sta cosa Sai che non ho ben capito Dove sta Ho lanciato le cariche Ma E qua mi massacra Secondaria Sto avvicinando Troppo Ciao Doppio colpo Me lo merito Dai Solo per aver Avuto pazienza E la miseria Andiamo a secondaria Anche noi Sulla Kurfust Vabbè E certo Venezia Sei venuto a dar fastidio Proprio Sul più bello Sei venuto proprio Con le AP E c'ho queste Selezionate Non posso fare niente 5000 Mia No Il Venezia Se la prende Non so cosa commentare In questa partita Cioè Veramente Loro Allora Non so se la cosa più strana È stato vedere Tutti gli alleati In un settore Oppure I nemici Non sfruttare l'occasione E pushare alfa Lascio a voi nei commenti La larga sentenza Non faccio Veramente fatica A Anche solo A pensare Quello che è successo Tre cacciator penieri A un certo punto Su Charlie Lo Yugumo Ripeto È tornato indietro Perché voleva Intercettare il Mogador Ma non avrebbe mai potuto Non aveva la forza Vabbè Ormai C'è anche una Bart In tutto questo No Troppo Il tiro Ma che vuol dire Rimbalzo Mannaggia la miseria Proviamo sulla Yamato Almeno 100 Eh no Vabbè Viene distrutta Prima dal Dal Gearing 92 Colpi che cadono Un'assistenza Mi ha dato Forse Avevamo La nave migliore Del livello Per fare Quello che abbiamo fatto Resistenza I siluri Quello che mi serviva Non ho gittata Sparo lo stesso Non ho neanche L'aerospotino No niente La partita mia Finisce qui E nulla Forse più di questo Non potevamo fare A un certo punto Poteva entrare Anche la Il doppio colpo Sì il doppio colpo Forse poteva entrare Poteva entrare Il doppio colpo In realtà Ah ne abbiamo fatti due Con le armi secondarie Ma me ne sono accorto I cannoni Si sono fatti sentire Fino a un certo punto In realtà Quella cittadella Tutto lo Yoshino C'è anche la fiamma Come avevamo L'accendino Poteva essere anche Una doppia cittadella Poteva essere anche Un devastante La verità Staremmo parlando di altro E che come te la devo valutare Questa partita A livello tattico Che cosa ti devo dire Che è stato sbagliato tutto Però l'abbiamo vinta Che cosa ti devo dire Estremamente soddisfatto O estremamente insoddisfatto Ma guarda Ti metto in neutrale Per non mettermi in difficoltà Ma in realtà Boh Non lo so neanche io Guarda Ma che Ma non si migliora il gioco Frate lo dico io Sono anni che vi Che dico le cose Vabbè Facciamo stare No in realtà Pochi danni Pochi danni Pochi danni Erano tutti qua Alla fine Che dovevo fare Una cittadella Un incendio Tre navi No abbiamo fatto poco È durata poco la partita Un'assistenza Qua abbiamo fatto Se abbiamo fatto 1.6 E anche tanto O me l'ha pagata 1.650 O me l'ha pagata Sul 1.800 Ma non penso di più E non penso neanche Alla prima posizione Saremmo arrivati di potersi Una partita da dimenticare Praticamente Ecco 1933 E Questo gioco Non lo capisco più Sono io che non capisco più Il gioco Forse siamo arrivati A questo assurdo All'assurdità Non capisco io il gioco Rapporto dettagliato L'abbiamo fatto male Dove abbiamo potuto Dispiace aver sprecato Un paio di colpi Sull'hawk Mi sa E zero danni Alla Yamato In più circostanze Potevo mettere Le HE Per i cacciatori Pellinieri Però ho detto Sai che c'è di buono Se si presenta l'occasione Per le AP Do la legnata E buonanotte a tutti Crediti Levate le varie spese Non essendo una nave premium Moltiplichiamo Relativamente poco Senza premium E con Tutto attivo 426 Con il premium 686.000 Torniamo nel porto Che mi è venuto Già mal di testa Va A un certo punto Ci avevo sperato Che Godzilla In passato Fosse presente Sopra la nave Durante Le partite Sarebbe stato Quanto meno interessante Vederlo Fare tutte queste cose Però non è così A differenza Delle mimetiche Dei Transformers Che quantomeno Prendono posizione Sulla nave Magari in torretta Sull'antiere Eccetera eccetera E quindi sono presenti Ebbene La figura di Godzilla Sparisce completamente Una volta Ripeto Che si entra In partita In qualcosa Prettamente divisivo All'interno Del porto Vi faccio sentire Ancora Il rugito Di Godzilla Che effettivamente Tra l'altro Il film è molto bello Non so se l'avete visto Sia quello Del Del 1900 Questa era 98 Per la miseria Ma quanto sono Sono vecchio Sono grande Sono vecchio Niente Questo è quanto Sulla partita È stata interessante E sconvolgente Allo stesso tempo Perché mi sono ritrovato Da solo Contro tutte le navi Di livello 10 Che il nemico Aveva a disposizione Però non capisco Perché loro Non abbiano spinto Dal mio settore Cioè Il gioco consiste Che se tu sei In superiorità numerica Ancora di più Come in questo caso Che erano Non lo so 6 contro 3 7 contro 3 È normale Che devi avanzare Perché affondi Tre navi nemiche E in più Ti prendi il cap E poi Pensa alle altre Invece Rimanendo sulla distanza Hanno favorito La mia giocata I miei tempi Di difesa E poi Una volta che La squadra nostra Fortunatamente ha vinto Vorrei ben dire Contro due navi È venuto ad aiutarci E quindi Il nemico Si è trovato chiuso E non poteva fare Più nulla Come in qualsiasi Gioco del mondo Se viene attaccato Su due fronti Non puoi resistere Neanche se sei Il giocatore Più forte del mondo Ok Questo è quello Che è successo E abbiamo anche Goduto Da un certo punto Di vista Godzilla anche Lo vedo abbastanza soddisfatto Direi che possiamo chiudere Perché altrimenti Andiamo troppo oltre Ragazzi Il video è terminato Io come sempre Vi ringrazio Per i like Commenti E le visualizzazioni No come sempre Ci vediamo Con un prossimo gameplay Ciao Godzilla Guarda 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 che fa Godzilla Guarda che ci vediamo 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 Guarda che ci vediamo